Cosa ne sai tu? I greci. Io sono pute, può interessare? Può interessare? Devo dare un'occhiata al regolamento, ma può interessare. Ma che culo che c'hai, povero, vai che i dati sono tondi. Uno, due, tre. Ma siamo qua in un posto sperduto di Dio. Non so da quanto tempo. Non preferirei essere in mezzo alla battaglia. Devi essere nel centro, nel vivo. Proprio nel mezzo. Allora, tirate su rigore o no? Ricco! Riccola, Riccola, Riccola! Viva, Riccola! Riccola, Riccola! Riccola! Io il tenente, un attimo. Riccola, Riccola! Grazie a tutti.